Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un altro video dove vi mostro i vestiti più usati in questo periodo, insomma, autunno-inverno. Sono alcuni ovviamente usati, però devo dire che sono quelli che sono andata alla ricerca più spesso perché tanti comodi, tanti caldi, ecco. E la maggior parte, come avete capito, sono vestiti che acquisto da C&A. Vi posso dire che C&A ha anche la possibilità di comprare online, quindi se non ce l'avete nella vostra zona, che spesso mi avete detto che appunto non esiste, potete tranquillamente acquistarlo online. Le taglie sono anche abbastanza comode. Dovete guardare perché esistono più categorie, ci sono le categorie che vestono più comodo, la categoria che veste più stretta, comunque è tutto spiegato attraverso il sito. E poi principalmente diciamo che per quanto riguarda felpe, cose da lavoro, così tendo ad andare da Primark perché sono sempre su e giù sui pullman, bambini, non bambini. Quindi di conseguenza se le cose le rompo o che le distruggo, so che gli ho dato quello che gli ho dato e pace e ame, insomma. Ecco, qua vedete la mia fantastica tuta intera. Devo dire che la sto ancora utilizzando perché si sta veramente caldissimi. Questo vestito verde è uno dei miei preferiti, che ho utilizzato anche per il mio compleanno perché è leggero, però si è abbinato con un body in cashmere sotto, i collant termici, ok? Si può tranquillamente utilizzare anche in inverno ed è fantastico perché nel periodo primavera-autunno è perfetto. Poi vi ho inserito anche una fotina delle unghie perché spesso mi chiedete delle mie unghie e ho voluto inserirla. Questa è una maglia barra vestito rosa glitter che adoro. Peccato che il tessuto è molto sintetico, quindi con i primi caldi la si può tenere addosso veramente poco. Ma è stra comoda, stra morbida e stra glitterosa, veramente. Ecco, alcune cose le ho comprate anche al mercato ma è una vita che non ci vado. Questo è stato uno degli ultimi acquisti, cioè è un portafoglio barra pochette perché è gigante, ci sta il telefono, le carte, i soldi da OVS e l'avevo presa in saldo a 5 euro. Questo è il mio teddy che era una vita che lo cercavo, sono super contenta di questo acquisto. Qua ero dal parrucchiere appena uscita, quindi super capelli. Di nuovo stavo partendo per il weekend ed ero appena stata dal parrucchiere, quindi. Qua eravamo nel lago di Zeo. Ho notato un ciuffo di capelli bianchi. Qua vi faccio vedere anche i miei capelli ricci. E questo è l'ultimissimo acquisto entrato in casa. Un maglione super oversize ma veramente coccoloso e per la prima volta ho comprato un paio di mom jeans. Sono grandi, ho preso lo stesso la taglia piccola, nonostante più piccola, nel senso più piccola della mia solita, però nonostante tutto vestono morbidissimo, vestono grandissimo. E secondo me per il momento ciclo per noi donne sono super fantastici. Non stringono, ecco. E poi niente, vi ho lasciato questa foto di ricordo e alla fine io se potessi andrei sempre al lavoro così in tuta, ma non si può. Comunque ecco, spero che vi piaccia.